Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Io sono Elisa e sono una studentessa del terzo anno di infermieristica. Ho scelto questo percorso di studi perché mi darà la possibilità di essere un professionista, sempre in prima linea nell'assistenza del prossimo. L'Università degli Studi dell'Insubria, uno dei migliori atenei per le professioni sanitarie, offre la possibilità a ogni studente di creare un percorso di studi basato sulle proprie attitudini. Dedizione, impegno ed empatia ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi ed essere un grande infermiere.